L'aggressione quando è avvenuta? Domenica di Pasqua alle 18.30 di pomeriggio. I suoi gatti erano nel giardino? I miei gatti erano sciolti nel giardino di dietro, è arrivato questo cane di razza corsa con un collare fatto a strangolo che ha preso il biogatto, purtroppo gli ha rotto una gamba di dietro. Io sono riuscito a liberare il cane perché mi sono adoperato con un bastone di legno, il cane mi si è rivoltato contro, ho dato altre due botte sulla testa, il cane è fuggito a direzione opposta da dove è venuto perché è uscito da via Sacco e Vanzetti e è fuggito verso via della colonna. Ho cercato di rintracciare il cane in bicicletta, non ci sono riuscito, tutta lunedì abbiamo girato per trovare il padrone e non ci siamo riusciti, quindi io vorrei sapere se è possibile rintracciare il padrone per avere un'idea di sapere se c'è un'assicurazione in modo da poter ripagare le spese che il mio gatto stamattina viene operato in clinica. E' fuori pericolo? Dovrebbe essere fuori pericolo, però ancora dovessero operato, quindi la risposta la so stasera, come va, se riesce a camminare, se gli devono tagliare la gamba, questo non lo so. Cerchiamo di dare qualche elemento in più, che colore è il cane? Il cane è nero con una grossa testa, non ho bene identificato se è maschio o fenne perché quando è fuggito non mi sono reso conto, però c'è una grossa testa e il particolare che mi rimane più facile da dire è che avevo questo collare a strangolo, zincato, bello, nuovo, quindi il cane da solo lo strangolo non solamente, il padrone ci deve essere per forza. Quindi se qualcuno sa di questo cane in giro per Fano che mi faccia sapere qualcosa, non so come, ma mi faccia sapere qualcosa. Anche tramite Fano TV non ci sono problemi, tra l'altro ci raccontava prima che fino a pochi giorni fa teneva il guinzaglio a suo gatto e sui gatti. Il guinzaglio fa fargli capire che qui di dietro potevamo girare tranquilli, la tranquillità qui di dietro non esiste, non esiste perché già dalla mattina alle 7 fino alla sera tardi, tutti i giorni ci sono cani sciolti con i padroni che ridono e ti deridono se li riprendi, quindi non è una cosa fattibile. Si è rivolto alle forze dell'ordine? Si, mi sono rivolto ai vigili urbani perché conoscivo anche un personaggio dei vigili urbani molto bene, mi ha detto che ci saranno da fare per trovare o il proprietario o il cane sciolto, però ancora non ho saputo niente, aspettiamo qualche risposta buona.